Ed eccoci alla festa della Santissima Trinità che con l'incarnazione di Gesù, vero Dio e vero uomo, è uno dei momenti e dei misteri centrali della nostra fede cristiana. Ritroviamo anche per questo padre Ernesto della Corte in conversazioni bibliche. Buona Pasqua della settimana padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana a voi e buona festa del Dio Trinità. Dio relazione. Dio relazione, sì, oggi è veramente una grande festa, ma poi sai dopo Pasqua è tutta una rincorsa meravigliosa. Ogni giorno, ogni domenica praticamente c'è una festa particolare, c'è un aspetto del mistero che ci affascina. Oggi la Chiesa celebra il Dio Trinità che è il Dio famiglia. Grazie a Gesù, grazie allo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù, noi possiamo conoscere il Padre. E come dicevi giustamente tu, è la festa della relazione. Noi siamo messi in condizione, dallo Spirito, di partecipare alla relazione col Padre. Lo Spirito ci rivela il figlio e il figlio ci ha rivelato il Padre. Che cosa è successo? Che durante l'ultima cena, Gesù ricorda ai discepoli quanto si erano ancora impreparati a vivere il mistero della sua vita. Ho tante cose da dirvi, ma per il momento non le sopportate. Ma lo Spirito, che poi in Giovanni, nel quarto Vangelo, dalla croce Gesù morente dona la Chiesa, sarà lo Spirito, dice Gesù, a guidarvi. Che bella questa espressione, il verbo è odogheo, è lui che vi traccia la via alla verità tutta intera. Se la verità è Gesù, lo Spirito ci guida a conoscere perfettamente Gesù, a metterci in relazione con lui. E come il figlio ha detto e realizzato tutto quanto il Padre gli ha consegnato, così ora lo Spirito prende da Gesù e lo annuncia ai discepoli. Ecco perché è lo Spirito a guidare alla verità tutta intera del Vangelo. È lo Spirito che prende e annuncia tutto quello che Gesù ha ricevuto dal Padre. E anche se la comunità inizia a vivere le persecuzioni e le varie prove, Cristo non promette interventi per evitare questi ostacoli, quelli del mondo circostante, piuttosto rivela che il suo ritorno al Padre fonda l'esistenza nuova della comunità e garantisce una sua presenza che sembra assenza proprio nella forza dello Spirito, che è l'altro paraclito, lo chiama così Gesù, quindi i paracliti sono due. Questo paraclito, che è lo Spirito Santo, continuerà a intercedere, a guidare la Chiesa, ad assisterla e a illuminarla. Per cui la passione e glorificazione di Gesù dona alla comunità dello Spirito, che è il dono più significativo. Questo dono è davvero molto importante per noi, perché è questo dono che ci permette l'incontro con il Figlio di Dio, questo reciproco vederci, che poi è incontro. Qual è però il fondamento di questa nuova esistenza? Gesù lo ribadisce ai discepoli e batte sempre su questa importanza del credere. In Giovanni non si usa mai il vocabolo, il sostantivo, ma si usa sempre il verbo. Credere che Gesù si trova nel Padre. E questa fede ovviamente richiede l'azione dello Spirito Santo. Senza lo Spirito della verità nessuno di noi può capirlo. Perché Gesù va al Padre? Gesù va al Padre per dare anche un effetto a noi, nella nostra esistenza. La nostra tristezza per un'apparente assenza, che è fortemente sottolineata da Gesù, dice io vado via, non dovete essere tristi, non dovete pensare che ci sia una separazione, ma tutto questo si cambierà in gioia. Perché? Perché Gesù, dopo l'ascensione, la Pentecoste, ha trasformato la sua presenza da storica a sacramentale. Lui non è più fuori di noi, ma è dentro di noi. Ecco perché aveva annunciato in uno dei discorsi di avere molte cose da dire, però non siete capaci di portarne il peso. Per il momento, che bella questa espressione, per il momento non potete. Perché? Perché sarà poi la Pasqua il dono dello Spirito a dare la forza ai discepoli di portarne il peso. Gesù che cosa fa nel sottolineare questa loro incapacità? Indica non solo l'aspetto ovviamente soggettivo dei discepoli, ma vuole indicare soprattutto la profondità della rivelazione. La rivelazione è troppo luminosa per essere contemplata. C'è la Dei Verbum, questo grande piccolo documento del Concilio Vaticano II, che alla numero 8 dice come la Chiesa sotto l'effetto dello Spirito, comprenda sempre di più tutti i tesori della tradizione. Gesù poi ci offre tre verbi con cui descrive l'azione dello Spirito. Il verbo guidare, il verbo esprimere e poi il verbo comunicare. Guidare perché lo Spirito guida verso la verità intera. Esprimere perché lo Spirito ci fa capire tutto quello che ha udito da Gesù e comunica, terzo verbo ai discepoli, ciò che è del figlio. C'è una sorta di ricomprensione di quello che già annunciava profeticamente il Salmo. Il Salmo 25, al versetto 5 dove si dice guidami nella tua verità e istruisci. Ebbene, oggi questo Salmo è esaudito, è il desiderio che attraversa tutta la tradizione biblica che è fatta della via, la via del Signore. Dio è la guida del suo popolo, come dice il Libro della Sapienza al capitolo 10, al capitolo 18. Ecco perché lo Spirito conduce i discepoli alla verità. Gesù nella sua missione messianica e rivelativa viene compreso per l'azione dello Spirito Santo. Questa verità tutta intera, questa pienezza del mistero di Cristo. Anche se ora Gesù non parla più, lo Spirito ascolta da Gesù come Gesù ha ascoltato dal Padre e ce lo comunica. E la cosa bella è che lo Spirito arriva al cuore dei credenti. Ecco il secondo verbo. E poi questo vi annuncerà, vi riferirà, proclamare, annunciare questo terzo verbo che indica proprio il rivelare una realtà che finora è sconosciuta. C'è questo verbo, ridire. Ecco l'annuncio che è nuovo per noi destinatari è stato prima ricevuto da colui che lo trasmette. Questo non è l'autore, è lo Spirito che ci annuncia le cose future, cioè ci farà comprendere come reagire di fronte agli avvenimenti. Lo Spirito è il grande motivatore, è quello che ci fa fare discernimento. Ecco perché la glorificazione di Gesù avvenuta per l'azione dello Spirito Santo aiuta anche la Chiesa lungo i secoli a prendere coscienza dell'importanza davvero di comunicare ciò che noi stessi abbiamo ricevuto. Per cui è veramente interessante oggi la famiglia di Dio. Noi siamo entrati in questa grande relazione tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco tra il Padre e il Figlio c'è quella totale comunione, ma grazie allo Spirito noi siamo entrati in questa comunione. Lo Spirito ci conduce alla pienezza della rivelazione e rende presente Gesù nelle azioni liturgiche, nell'operato della Chiesa e da duemila anni continua ad assisterci perché davvero ognuno di noi possa essere strumento di rivelazione per gli altri. Davvero molto bello oggi pensare che quel Dio Trinità, quel Dio Famiglia ci ha chiamato a far parte di questa casa. Come direbbe Paolo siamo entrati nell'intimità di Dio perché ognuno di noi col suo stile di vita come singolo e come comunità possa dichiarare al mondo che è l'amore che salva, quell'amore che viene dal Padre, testimoniato dal Figlio e reso operante dallo Spirito Santo in ognuno di noi e nella storia. Bellissimo soprattutto quello che ci hai detto a proposito dello Spirito che è e rimane il nostro grande motivatore. Ci ricorda che siamo chiamati ad essere in relazione, ad essere genitori, figli, amici, in relazione e in amore. Senza lo Spirito noi saremmo soltanto un gruppo, un club, non saremmo la Chiesa come invece l'ha voluto Gesù. Perché dobbiamo prendere coscienza che è lo Spirito che ci conduce. Anche quando le strade sembrano perigliose, quando dobbiamo attraversare la notte, i momenti bui, lo Spirito all'improvviso accende nuove vie. C'è sempre un esodo, ricordiamo la pagina sempre dell'Antico Testamento. Può esserci una notte da attraversare, ma al mattino Gesù ricompare nella forza dello Spirito e indica alla sua Chiesa qual è la via. D'altra parte, Anna Maria, cari amici, noi siamo veramente fortunati a vivere questi anni. da concilia ad oggi, basta ricordare solo gli ultimi pontifici. Oggi è il tempo di una Chiesa che grazie a Francesco deve vivere in modo povero, sempre a servizio dei poveri, deve spogliarsi di ogni struttura, perché la forza della Chiesa è lo Spirito Santo. Ed è per questo che ci ricorda anche che siamo persone che dobbiamo testimoniare l'amore, l'amore che arriva dallo Spirito Santo, l'amore che ci è arrivato per primo da Gesù. Grazie Padre Ernesto per oggi, ricordiamo che la prossima puntata è l'ultima di questa stagione. Sì, ma l'ultima per questi mesi, poi ci ritroveremo credo a ottobre per ricominciare di nuovo il nostro cammino. Tranquillizziamo le nostre amiche e i nostri amici. Sì, sì, già se lo chiedono in tanti, tranquillizziamo, ritorniamo solo per questa stagione e l'ultima. Grazie ancora e buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana e buona Trinità a tutti quanti noi. Buona Trinità a te. Shalom. Buona Pasqua della settimana e buona Trinità a tutti quanti noi.